18 artisti provenienti da tutta l'isola ieri hanno partecipato all'esemporanea di pittura intitolata 25 ottobre a Balai, Porto Torres tra arte, devozione e tradizione, che si è tenuta nel parco di Balai dalle 9.30 del mattino sino alle 18.00. L'evento, curato dall'associazione TNT Global Art, si è ispirato al martirio dei santi patroni della città, Gavino, Proto e Gianuario e all'abbigliamento tradizionale turritano. Le opere prodotte durante la giornata di ieri saranno esposte da oggi sino al 5 novembre nella sala superiore dell'antiquarium turritano. I vincitori del concorso saranno premiati proprio il 5 novembre alle 17 da una commissione di esperti nell'aula consigliare del comune.